Nella notte di martedì 12 febbraio a Cirella, frazione del comune di Diamante, è crollato il muro di recinzione dell'hotel Ducale. Si tratta di un'opera di valore storico artistico risalente alla fine del Settecento. Una tragedia che si poteva evitare perché le segnalazioni, come ci hanno spiegato dall'associazione Cerille, erano state fatte a tempo debito. Da qualche anno abbiamo capito che c'era il problema qua, infatti c'era un rigonfiamento, non dico alla base, ma a qualche metro di altezza. Abbiamo segnalato il pericolo, ma purtroppo è stato un po' sottovalutato. Anzi qualcuno in quel periodo ci ha pure deriso, dice ma che state dicendo, non è vero niente, qua il muro è stabile, qua e là. Purtroppo abbiamo visto che è successo. Noi siamo molto ricchi di storia e forse la sottovalutiamo. Che purtroppo qualcuno qualche anno fa ha detto che con la cultura non si mangia, non è vero, non è vero proprio. E la cultura che porta? Porta gente? E porta gente che fa? Deve mangiare, deve dormire. E quindi? Si mangia? Solo questo voglio dire. Quindi con la cultura si mangia. E questo è il Presidente della Regione Calabria che l'ha detto. Dunque un danno storico che si sarebbe potuto evitare, ma soprattutto un danno storico del quale risente tutta la comunità di Cirella, come ci spiega Mauro Di Marco del Forum Ambientalista. Non si tratta di semplici sassi. Che cosa ha perso la comunità di Cirella con questo crollo? Ieri mattina, uscendo quando me l'hanno detto, si vedeva negli occhi delle persone cosa ne pensa. È l'anima di Cirella. Questa è la spiaggetta del paese. Questi muri che hanno più di due secoli hanno creato l'immagine proprio del luogo. Tant'è vero che molti muri, anche di recinzione di case più recenti, si sono ispirati a questo motivo, delle punte, delle veri e propri rialzi che ci sono in questo modo. Ti viene un senso di scoramento per il fatto che sai benissimo che era possibile evitarlo. Ci voleva sicuramente maggiore attenzione. I proprietari a cui spettava l'onere della manutenzione probabilmente da soli non potevano farcela. Segnalano la cosa da anni, le associazioni locali segnalano le cose da anni. Dopodiché quello che manca è il fatto di avere responsabilità rispetto alla propria memoria. Chi manca? Manca è mancanza della superintendenza che non ha dato prescrizioni. Non lo sapremo probabilmente perché tutti avranno fatto la loro parte secondo i loro uffici in maniera perfetta. Solo che dopo una comunità si trova senza la sua anima.